È nel segno di Beethoven che inizia la diciassettesima stagione della Camerata Strumentale Città di Prato al Politeama Pratese, Egmont e la Eroica. Terminerà con l'inno alla gioia di Schiller alla fine del calendario, a maggio, e il motto che questa volta il maestro Battisti ha scelto è abbracciatevi schiere di esseri umani. È Schiller, è l'inno alla gioia, è Beethoven che è nella nona sinfonia che concluderà la stagione, ma questa stagione inizia anche con qualche addio, non solo abbracci. Dopo 16 anni il maestro Alessandro Pinsauti lascia la Camerata e arriva il maestro inglese Jonathan Webb. È importantissimo perché 16 anni con un'orchestra, è abbastanza lungo per un direttore musicale, e lui ha costruito un'orchestra nuova, ha dato alla città il patrimonio del futuro, diciamo che questo è una cosa per la città indimenticabile. Noi dobbiamo essere veramente grati a lui, avendo fatto non solo questo lavoro per la città, ma anche per i musicisti. Io sono veramente privilegiato di seguire lui e spero di continuare il lavoro che ha fatto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.